L'11 febbraio, quindi in un'era che ormai ci sembra remota, totalmente sorpassata, ci fu al circolo la prima puntata di un ciclo che abbiamo deciso di chiamare Fuori Programma, che consisteva e consisterà in incontri organizzati un po' all'ultimo momento per stare dietro agli sviluppi, agli imprevisti, all'attualità più coccente. Il 3-4 febbraio il coronavirus era qualcosa di ancora molto lontano, ma in qualche modo già presente e il circolo ha deciso di fare una riflessione, come dire, a tutto tondo, che partiva dalla virologia ed era con noi il professor Di Perri, arrivava alla letteratura e Giorgio Ficara, professore di letteratura italiana, ci parlò della peste mazzoniana e non solo e Nadia Ferrigo affrontava questo tema sul piano dell'approccio dei media. Tutto questo era molto lontano, ma comunque degno di attenzione. A due mesi e mezzo di distanza, l'incontro di oggi si intitola per ragioni che tutti noi comprendiamo purtroppo sulla mascherina e affronta il tema del coronavirus con un approccio e una vicinanza ben diversa. È qui con noi a spiegarci tante cose che i media, i giornali, i politici e anche i virologi non ci spiegano forse abbastanza bene il professor Luca Ricolfi, sociologo accademico, ma soprattutto direi attentissimo e originale osservatore della realtà. Ricordiamo che di recente abbiamo presentato al circolo la società signorile di massa, il suo ultimo libro, dedicato a un tempo, a una stagione che forse ci siamo lasciati alle spalle, sulla quale rifletteremo certamente in condizioni e con dei presupposti diversi, ora che c'è fra noi questo ospite sgradito, che è il coronavirus. Ma il professor Ricolfi, da quando l'epidemia è esplosa in Italia, ha deciso di focalizzare la propria competenza proprio su questo tema, con alcuni editoriali illuminanti sul Massaggero, ma soprattutto direi con il sito della fondazione Hume, nel quale tutti voi trovate e troverete sempre dei bollettini aggiornati bisettimanali di controinformazione, ma direi soprattutto di informazione documentata, e poi troverete questo termometro dell'epidemia che è direi uno strumento indispensabile per capire, approfondire e cercare di entrare con un certo criterio nella selva di informazioni vere, false, ma soprattutto in labile equilibrio fra una cosa e l'altra del quale siamo sommersi. Allora proviamo quindi, Luca Ricolfi, a ragionare con i numeri, a provare a rendere leggibili questi numeri nel contesto di quello che succede e di quello che succederà, come trattare i dati partendo magari dagli zoccoli di un cavallo in bizzaritto per arrivare alla carica virale. Mi riferisco alla questione, non irrilevante, anzi, del rapporto fra piccole e grandi probabilità nell'epidemia. Incominciamo di qui, direi. Sì, questa storia del cavallo in bizzaritto è l'origine di una branca della statistica che qualcuno chiama delle piccole probabilità. L'ideatore è Bortkiewicz, che cominciò a studiare un bel po' di tempo fa il seguente problema. Quante probabilità ci sono che un ufficiale russo perda la vita a causa del calcio di un cavallo? Voi capite che è una probabilità estremamente bassa e avere un numero di casi sufficiente per studiare un problema del genere è piuttosto difficile. Ora, perché tutto questo centra col coronavirus? Ma centra perché, a mio parere, l'errore comunicativo più grosso che si è fatto e che si sta continuando a fare è quello di mettere sullo stesso piano dei rischi reali con dei rischi puramente teorici. Il rischio di infettarsi andando a fare la spesa è molto forte il rischio di infettarsi in una cena al ristorante è molto forte il rischio di infettarsi in un aereo o in una metropolitana è enorme ma il rischio di infettarsi facendo un bagno in mare facendo una passeggiata da soli o facendo una corsetta in un parco sempre da soli è assolutamente trascurabile ed è l'ordine di grandezza del rischio che abbiamo tutti noi quando uscendo di casa, se stiamo in città, ci possa cadere una tegola sopra. Allora, il fatto che in linea di principio si possa beccare il virus anche in certe forme molto estreme non deve farci dimenticare che si tratta di probabilità trascurabili cioè secondo me noi abbiamo poca dimestichezza anche nella nostra vita quotidiana con le piccole probabilità mettiamo tutto sullo stesso piano ci spaventiamo molto di cose che magari non dovrebbero preoccuparci troppo questo vale anche per esempio per l'alimentazione ci sono delle vere e proprie fobie di certi comportamenti che non hanno fondamento statistico ecco, per me nella vicenda dell'epidemia aver trascurato questa distinzione è stato grave e anche creato delle forme di isteria di massa e persecuzione individuale cioè quando uno viene fermato o monitorato con un elicottero perché sta facendo un'immersione per andare a pesca di polipi c'è una sproporzione fra l'uso dei mezzi e il risultato e il pericolo soprattutto che questa persona può comportare lo stesso vale per la campagna che si è fatta contro i passeggiatori dei parchi delle città e notate che io sono uno di quelli, dei pochissimi che è sempre stato preoccupato del virus che ho cominciato a dire che bisognava chiudere a febbraio in quell'epoca eravamo pochissimi io praticamente ricordo che gli interventi più risoluti per la chiusura immediata sui media furono tutti su Italia Oggi complice di questa bravissima giornalista che si chiama Alessandra Ricciardi e vi furono due interviste una a me e una al professor Andrea Crisanti che dissero molto chiaramente lui con più fondamento di me perché è colui che ha fatto l'indagine di Vaux e dissero che o chiudevamo subito per due mesi oppure sarebbe stato un disastro non solo sanitario ma anche economico perché il disastro economico dipende da quanti sono i mesi di chiusura effettiva se tu chiudi subito quando sembra non sia necessario magari te la cavi in sei settimane otto settimane, due mesi ma se tu aspetti che tutti abbiano capito che è necessario per chiudere magari ci vogliono tre mesi ce ne vogliono quattro e se l'epidemia riparte se ne vogliono altri cinque, sei si può star chiusi anche un anno se l'epidemia continua a ripartire ma forse ho dato una risposta troppo lunga Elena no 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 va benissimo anzi mi dà molto agio a riprendere il filo del discorso e citare a mia volta quello che ormai come dicevamo poco fa offline è diventato un mio idolo che è questo professore americano di fisica che però si occupa di sistemi complessi e di epidemiologia si chiama Yanir Bariam il quale dice traduco malamente da una lingua che non è la mia abituale di traduzione più la gente si concentra su fermare l'epidemia prima si torna alla normalità più la gente è focalizzata su tornare alla normalità più tempo ci vorrà per fermare l'epidemia quindi da una parte è molto da una parte mi sembra molto logico e comprensibile e financo ovvio il fatto che se c'è un bastardissimo virus che circola stando a casa e con l'isolamento sociale questo virus lo fermiamo questa mi sembra una cosa papale come si direbbe ovvia dall'altra mi pare di capire che ci troviamo di fronte a una grande complessità sia del sistema virale sia della elaborazione della possibilità di elaborare dei dati coerenti e anche di leggerli cioè è difficile elaborarli ed è anche difficile leggere questi dati quindi io penso che abbiamo la persona più che perfetta per provare a ragionare con i numeri che abbiamo e renderli appunto leggibili di fronte all'evidenza che tutti i giorni abbiamo questo appuntamento con la protezione civile con i dati quotidiani e tutti i giorni ci troviamo di fronte al fatto che un giornale online li legge come buoni un altro giornale un altro sito li legge come cattivi e in un certo senso noi persone normali siamo condannate a doverli leggere da noi questi dati quindi ci dia qualche indicazione su come prendere questi dati qual è il moltiplicatore reale quanto questi dati che abbiamo quotidianamente sono esemplari cioè simbolici o sono sfalsati rispetto ai dati reali insomma quanti sono presumibilmente i contagi e come possiamo regolarci nella lettura di questi dati quotidiani o settimanali ma io voglio correggerti su un punto e io non sono affatto la persona perfetta per rispondere perché nessuno nessuno è in grado di interpretare in modo perfetto questi dati che sono molto sporchi e imperfetti quello su cui posso garantire è che io non ho interessi di parte cioè non mi interessa né attaccare il governo né difenderlo né difendere che so io la confindustria o i sindacati io cerco semplicemente di dire quello che riesco a capire dai dati con gli strumenti imperfetti che abbiamo dove però il problema grosso non sono tanto gli strumenti ma sono e la qualità dei dati più i dati sono cattivi e possono essere cattivi non perché sono manipolati ma perché il sistema di trasmissione funziona male e più sofisticati debbono essere gli strumenti per leggerli questo è il punto questo è il motivo per cui noi fino a un certo punto fino a una decina di giorni fa avevamo elaborato uno strumento relativamente sofisticato per valutare la situazione che era il termometro dell'epidemia che è stato diciamo fatto conoscere dal Tg di Mentana dalla 7 per una quindicina di giorni poi abbiamo sospeso perché non avevamo più dalla protezione civile le informazioni necessarie per andare avanti fino a quel momento potevamo accontentarci dei dati che ci dava da un certo punto in poi cioè da quando le ospedalizzazioni sono diminuite quei dati erano diventati del tutto insufficienti quindi abbiamo cominciato a lavorare per un nuovo strumento che penso sarà online nei prossimi giorni che si chiamerà termometro dell'epidemia anche questo ma espresso in gradi Kelvin pseudo Kelvin spiego fra un attimo cosa vuol dire ma prima voglio dire due parole sul problema che solleva a Vielena cioè della qualità dei dati cerco di dire le parole più semplici cerco di dire perché è difficile leggerli allora c'è una prima ragione molto banale che si dimentica spesso ed è che quando voi apprendete che le morti sono aumentate o diminuite negli ultimi giorni sono prima diminuite poi sono di nuovo aumentate potete rallegrarvi o no ma dovete essere consapevoli che l'informazione che vi viene data in quel momento della protezione civile non riguarda quello che sta succedendo in Italia in questo momento riguarda quello che stava succedendo tre o quattro settimane prima quindi c'è un errore di attualizzazione di informazioni che non sono affatto attuali questo è abbastanza ovvio ma è spesso dimenticato nella comunicazione pubblica secondo problema il dato a cui tutti danno molta importanza è quello dei nuovi contagiati dei nuovi casi cosiddetti ora questo dato è farlocco completamente farlocco al punto che noi nel nostro termometro lo ignoravamo proprio per vari motivi il primo motivo per cui è farlocco è che è drogato dei tamponi cioè a seconda di quanti tamponi si fanno cambia il numero è un dato relativo è un dato relativo che dipende se non viene depurato dal numero di tamponi fatti ed è una cosa molto difficile dal punto di vista statistico non ha nessun significato poi è un dato che ha una stagionalità settimanale se così si può dire nel senso che i casi diminuiscono nel weekend a causa del minore numero di tamponi quindi va destagionalizzato che il termine tecnico che si usa per dire tenere conto se è lunedì o martedì o domenica ma il problema più grosso è un altro ancora fatto 100 il numero di contagiati in Italia quello strumento lì della protezione civile ne rileva se va bene 5 5 su 100 allora è come se un pescatore si affacciasse sul molo con la sua canna da pesca per due sere di seguito non pesca un pesce e pensa che i pesci siano spariti dal mare è un errore clamoroso se quello strumento beccasse la metà degli infetti potremmo anche dire vabbè grosso modo se stanno aumentando in questa metà che becchiamo staranno aumentando anche nell'altra ma se quello strumento seleziona il 5% questa percentuale è completamente diversa da regione a regione dipende dal numero di tamponi e dalle politiche di monitoraggio delle autorità sanitarie quel dato lì non ha nessun significato poi ci sarebbe un discorso se abbiamo voglia di farlo dimmi tu Elena sui morti cioè su quanti sono i morti questo sicuramente prima di direi di passare alla fase successiva che potrebbe essere quella costruttiva di ipotizzare delle soluzioni hai ragione se non ci intrissiamo no no sui morti certamente il numero il numero scuro veramente sotto tutti i punti di vista però devi spiegarci i gradi del termometro va bene piccola spiegazione tecnica quando noi misuriamo la temperatura in Italia usiamo i cosiddetti gradi celsius o centigradi se la misuriamo in in Inghilterra usiamo i gradi fahrenheit sono termometri che sono privi di uno zero assoluto c'è uno zero convenzionale che in Italia è fissato in un certo modo siamo abituati a pensare che 37 gradi sia la temperatura giusta e che se hai 42 gradi sei più di là che di qua c'è un altro modo di misurare la temperatura che è stato inventato nel secolo scorso è che la temperatura è in gradi kelvin la differenza con i due termometri precedenti fahrenheit e celsius è che i gradi kelvin partono da zero cioè la temperatura in gradi kelvin è una misura assoluta di agitazione termica se le molecole le particelle subatomiche sono ferme i gradi kelvin sono zero e questo corrisponde a circa meno 273 gradi centigri di far freddino e poi va avanti illimitatamente non c'è un limite superiore però abbiamo la sicurezza che lo zero significa una cosa ben precisa cioè che l'immobilità perfetta allora noi abbiamo pensato stiamo completando un lavoro per pubblicare una misura della temperatura dell'epidemia in gradi pseudo kelvin che ha questa interpretazione zero significa che l'epidemia si è fermata cioè che i contagi sono zero o vicini a zero cento che è il nostro tetto significa che il numero di la velocità con cui procede l'epidemia cioè i nuovi contagi giornalieri sono uguali al punto di picco cioè al punto che storicamente è risultato quello con la massima massimo grado di massima velocità di propagazione dell'epidemia naturalmente noi ci aspettiamo che questo termometro dia sempre dei valori inferiori a cento perché se non ed esse superiori vorrebbe dire che abbiamo raggiunto un nuovo picco ancora più alto del precedente e con questo strumento siamo in grado di stabilire un dato paese o una data regione in che punto si trova della scala scala nella quale anche il singolo grado ha un significato abbastanza preciso cioè un grado pseudo Kelvin corrisponde a un certo numero di morti o a un certo numero di nuovi contagiati ci sono due interpretazioni possibili io non dico ancora a cosa corrisponde esattamente perché il lavoro lo stiamo facendo però quando ci sarà il termometro cioè fra un paio di giorni e voi apprenderete che la temperatura è scesa di supponiamo tre gradi pseudo Kelvin questo vorrà dire un certo numero di contagiati in meno al giorno ecco questo termometro sarà basato su informazioni più obiettive di quelle usate tradizionalmente sempre provenienti dalla protezione civile ma diciamo trattate dal punto di vista statistico per filtrare il molto rumore che contengono esatto e questo è il problema appunto di non essere in grado nemmeno di leggere dei dati che a prima vista sarebbero oggettivi perché siamo abituati a concepire i numeri come qualcosa di incontrovertibile invece posso dare un esempio paradossale noi tutte le sere sentiamo che i guariti sono aumentati e ci sembra un buon dato lo statistico invece lo interpreta come un bruttissimo dato perché il numero l'aumento del numero di guariti significa più ingressi in ospedale è paradossale ma anche un po' fa venire un po' di pelle d'oca ma spiegaci perché certo perché una parte sono dagli ospedali quindi vuol dire che se tu hai per esempio un livello di ospedalizzazioni costante non so sempre centomila ospedalizzati e un bel giorno ci sono diecimila guariti se ti dicono che ci sono sempre centomila ospedalizzati magari vuol dire che ne sono entrati diecimila certo e quindi quel dato lì per esempio è double fast non ho detto che è una cattiva notizia però è difficile interpretarlo perché ti veicola due tipi di informazioni gente che guarisce e ospedali che si svuotano e che ricambiano ma c'è ricambio esatto quindi sono nuovi ingressi certo voglio sperare dall'alto del mio inguaribile ottimismo che ci sia anche una percentuale di guariti che sono guariti a casa e che quindi in qualche modo non non è una cosa che non ci dice la protezione civile noi non riusciamo a sapere quante sono dimissioni dagli ospedali quanti sono le persone in quarantena guarite nel senso che il tampone è uno dei problemi che abbiamo con i dati orribili che ci danno sì certo la questione la questione poi dei tamponi come si diceva chiacchierando qualche tempo fa è che un tampone non corrisponde a un individuo ma soprattutto per la fase di guarigione ci sono almeno due tamponi a individuo quando non molti di più perché come vediamo una delle insidie di questa di questa malattia è che resta il virus resta far restare positivi ancora molto a lungo dopo la scomparsa dei sintomi supposto che ci siano stati sintomi è incredibile e questo determina ovviamente la necessità di moltiplicare i tamponi per individuo allora prima di tranquillizzare una parola grossa prima di portare i nostri ascoltatori il nostro pubblico i nostri lettori su un fronte diciamo in cui sarà promettiamo di poter respirare con un po' meno di nodo in gola mettiamola così affrontiamo un attimo questo tema dei numeri oscuri in particolare riferiti al tema inafferrabile per definizione quasi che è quello dei decessi e poi parleremo di cosa si fa cosa si potrà fare cosa si deve fare allora il problema del numero effettivo di morti è stato sollevato ormai da più di un mese un po' da tutti ci sono state delle controversie per ragioni diciamo di qualità delle fonti statistiche perché molti di noi hanno lavorato su dati Istat ma i dati Istat erano un campione rappresentavano un campione non rappresentativo di comuni e quindi c'è stata una diatriba che vi risparmio tra specialisti di questo tipo di dati però diciamo se lasciamo perdere gli interventi con un chiaro fine ideologico di demonizzazione o sdemonizzazione del problema c'è un certo consenso su un punto e invece c'è molta incertezza su un altro allora il punto su cui c'è consenso è che il numero di persone che sono morte a causa del coronavirus in modo più o meno diretto è almeno il doppio del numero ufficiale alcuni si spingono a dire che potrebbe essere più del triplo io penso che sia leggermente meno del triplo però diciamo se devo sbilanciarmi su una cifra tonda io direi che i morti sono il triplo dei morti effettivi sono il triplo di quelli ufficiali quindi vuol dire che il cosiddetto numero scuro che è un termine che viene dal diritto si parla di numero scuro a proposito dei reati che non vengono denunciati ma vengono commessi per cui si dice un certo reato ci sono tot denunce tot condanne e poi c'è un numero scuro pensate ai furti tantissimi che vengono denunciati allora il numero scuro cioè il numero di morti non rilevati ufficialmente è circa due a uno cioè per ogni morto effettivo denunciato diagnosticato ce ne sono due che non sono diagnosticati buona parte di questi sono nelle residenze per anziani ma non ma non tutti allora questa è la parte su cui il dissenso è di lana caprina cioè c'è quello che dice che 2,5 e quello che dice che 3,1 ma sostanzialmente siamo tutti d'accordo la parte invece in cui c'è un forte dissenso e su cui io mi sono un po' sbilanciato tempo fa è quella di è quello di distinguere fra il numero scuro delle regioni più colpite che sono essenzialmente nel nord come la Lombardia ma anche il Piemonte e il Veneto l'Emilia Romagna una parte delle Marche e le restanti regioni del centro sud voi sapete che se dividiamo l'Italia grosso modo in queste aree il differenziale di morti per abitante è molto forte cioè sono molti di più per abitante non solo in cifra assoluta questo è un altro dei problemi statistici bisogna sempre ragionare per abitante non in cifra assoluta quando vi dicono ah in Valle d'Aosta non ci sono morti certo ma sono centomila abitanti allora dicevo tornando al discorso principale se noi prendiamo i morti ufficiali c'è un enorme differenziale nord-sud e c'è questa autopercezione del sud di essere relativamente esente se teniamo conto del numero scuro tutto si riequilibra fortemente cioè il numero scuro è molto più alto nel mezzogiorno secondo gli studi che molti di noi hanno fatto che non nel nord quanto più alto lo sapremo solo quando l'istat si degnerà di darci un campione rappresentativo per adesso non si sa io mi sono espresso qualche settimana fa dicendo che potrebbe essere che la diffusione dell'epidemia nel sud è un terzo un quarto che è al nord e non un decimo come sembrerebbe però questo lo lascio aperto quello di cui siamo piuttosto sicuri tutti è che il numero scuro è più alto al sud che al nord non sappiamo di quanto certo il numero sì sì ecco questo mi porta a passare sull'altro versante di questa conversazione di queste informazioni che ci stai dando estremamente interessanti e cioè di al di là diciamo di una valutazione del danno umano sulla base dei dati statistici di capire dove a che punto si trova l'Italia in rapporto a quello che sta avvenendo intorno a noi insomma diciamo pensiamo soprattutto all'Europa quali paesi hanno contenuto meglio e quali peggio rispetto a noi io ti ti riverso tutte queste cose poi le affronteremo appunto vedrai tu con dare ordine a queste parole che ti sto dicendo quindi a capire a che punto siamo noi con l'epidemia capire a che punto siamo geograficamente umanamente nel contesto dell'Europa e magari non solo vedere alcuni modelli che sono stati diciamo citati uno è il modello VOO cioè il modello Veneto l'altro è il modello israeliano che è un modello puramente teorico che non è stato ancora applicato in Israele ma in Israele che è una realtà che conosco abbastanza hanno contenuto piuttosto bene l'epidemia con delle misure drastiche e molto precoci ed è il cosiddetto modello 4 più 10 quindi valutare la nostra posizione all'interno dell'Europa e dello scacchiere dell'epidemia internazionale e capire quali modelli sono praticabili c'è un'altra questione che arriva diciamo dalle domande dagli interventi di chi ci sta seguendo su Facebook e cioè ha senso pensare a una regionalizzazione delle misure o è giusto procedere tutti insieme non direi appassionatamente ma comunque dritti alla meta tutti insieme Care Elena è un'epidemia di domande no ma se vuoi poi te le ripasso diciamo se mi dimentico qualcosa io ho gli appunti da pre allora intanto io dico questo che dovendo valutare a che punto siamo secondo me è meglio basarsi sul picco di mortalità di ogni paese e non sul numero di contagi perché il numero di contagiati è troppo dipendente dai tamponi che un paese fa e non ci dice nulla viceversa il numero dei morti anche se ci sono dei sospetti che alcuni paesi classifichino in modo diverso i morti per il coronavirus i dati sui morti sono diciamo i meno inaffidabili di cui disponiamo quindi io preferisco lavorare su questi naturalmente con la tara del numero del numero scuro però il punto il punto è questo che se noi ci chiediamo a che punto siamo rispetto al picco poco ci importa il fatto che nel giorno di picco i morti fossero il triplo di quelli denunciati perché noi ci chiediamo relativamente ad allora a che punto siamo quindi se erano il triplo allora saranno il triplo anche adesso noi misuriamo il progresso relativo non la situazione assoluta allora se ragioniamo in questi termini io posso dire che l'Italia su questo parametro gli ultimi dati ce la danno intorno al 30% del picco quindi vuol dire che abbiamo percorso già due terzi della strada che si dovrebbe fare anzi un po' meno i due terzi diciamo che siamo dipende dipende se consideriamo l'ultimo giorno o l'ultima settimana perché ci sono delle grandi fluttuazioni negli ultimi giorni comunque l'Italia ha fatto un certo percorso il problema è che altri paesi hanno fatto un percorso maggiore cioè se io vado a vedere com'è la situazione della strada percorsa da 0 a 100 beh l'Italia in realtà fino all'altro ieri perché sono dati non sono dati recentissimi noi non riusciamo a elaborarli tutti i giorni sto parlando dei dati dell'altro ieri oggi potrebbe essere più vicino a quello che ho detto prima l'altro ieri era ancora al 40-42% di strada percorsa per farvi qualche esempio la Norvegia era il 21 la Finlandia era il 24 Israele era il 26 io ho guardato questa tavola che abbiamo preparato oggi e a me risulta che i paesi messi meglio in questo percorso sono Norvegia Finlandia e Israele i paesi messi peggio ahimè sono Regno Unito Turchia Portogallo Olanda Belgio avrete visto che non ho citato l'Italia l'Italia è in una situazione intermedia cioè non è in una situazione rassicurante perché va peggio di Israele Norvegia Finlandia ma va meglio del Regno Unito va un po' peggio della Germania della Francia quindi diciamo che siamo a metà classifica la mia opinione di cittadino di buonsenso è che avremmo dovuto metterci in riaprire quando eravamo vicini a zero è chiaro che siamo lontanissimi da zero perché dire che siamo al 30 o al 40% quando il picco era di quasi mille morti al giorno voi capite che vuol dire che siamo lontanissimi dall'obiettivo però però visto che vogliamo mettere anche un po' di ottimismo in questa chiacchierata c'è un elemento che gioca a favore e cioè quello che dicevo all'inizio di questa chiacchierata e cioè che dire che oggi l'Italia è a 35 o a 40 in realtà significa che l'Italia era a 35 40 3 settimane fa quindi quello che noi dovremmo fare è un'estrapolazione e provare a proiettare il trend che rileviamo adesso nei prossimi nelle prossime settimane cioè essere profetti di noi stessi praticamente sì e questo lo si può fare in realtà usando un altro strumento che è la velocità di rallentamento del contagio anche qui abbiamo una classifica e ci dà di nuovo Finlandia Israele e Norvegia nei posti migliori cioè sono diciamo i paesi nei quali il rallentamento dell'epidemia è stato più rapido scusate il gioco di parole che più velocemente sono andati verso quota zero se guardiamo la posizione dell'Italia invece è drammatica cioè noi siamo lentissimi noi abbiamo una velocità che è del 3% al al giorno che è bassissima peggio di noi fanno soltanto la Turchia il Regno Unito e il Portogallo allora quell'elemento di ottimismo che ho introdotto prima cioè magari nel frattempo la situazione potrebbe essere migliorata va mitigato osservando che potrebbe essere migliorata ma non tantissimo perché la nostra velocità di caduta è bassa ecco c'è una spiegazione per questa velocità di caduta così bassa qui allora non credo che sia determinata dal fatto che gli italiani sono andati più a spasso degli altri nonostante semmai siamo stati più disciplinati anche perché eravamo obbligati a farlo allora qui entriamo in un campo speculativo cioè ognuno ha le sue opinioni e non c'è l'esperto quindi io parlo per impressioni poi ho anche però un argomento invece razionale l'impressione mia è che la ragione per cui il nostro percorso è particolarmente lento è il fatto che abbiamo messo al comando di questa del monitoraggio di questa epidemia del personale che non è in grado di gestire un'epidemia perché dico questo perché gli strumenti fondamentali di cui si conosceva l'importanza per controllare l'epidemia sono stati volutamente non implementati volutamente in due casi e non volutamente per l'altro quali sono questi strumenti sono in ordine di importanza crescente la app di cui si comincia a parlare tre mesi dopo l'inizio la dichiarazione dello stato di emergenza e se ne parla in termini speculative che probabilmente non funzionerà comunque l'app è una delle cose che ci si è dimenticati di mettere in atto in altri paesi invece è stato subito messo in atto secondo le mascherine ci hanno raccontato per settimane e settimane che non servivano salvo cambiare idea quando l'approvvigionamento ha cominciato a essere meno disastroso quindi dato che non c'erano dicevano che non servivano terzo punto e il più importante di tutti i tamponi allora lì c'è stata una scelta che io voglio sperare sia stata fatta per incompetenze non per l'oschio interessi da parte dell'OMS di scoraggiare l'uso dei tamponi la ragione per cui noi ce ne stavamo a casa nessuno ci veniva a prendere o a prendere la febbre o a visitare o a fare il tampone è che c'era una precisa direttiva dell'OMS che diceva fate meno tamponi possibile fatelo solo nel caso in cui ci siano dei sintomi e inoltre la persona abbia le prove di essere stata a contatto con uno positivo che a quel punto era veramente pleonastico fare un tampone visto il grado di contagiosità io non sono un dietrologo ma vi segnalo che circola online un video in cui viene spiegato che questa cosa dell'OMS è stata deliberata io non mi pronuncio su questo perché non lo so circolano tante storie però è talmente incredibile la serie di errori che ha fatto l'OMS ed è talmente evidente la direzione di questi errori che è stata sempre di legittimare la Cina che ha nascosto invece i dati che diciamo io che sono molto ostile a tutta la dietrologia comincio a pensare che ci sia qualcosa di non chiaro nel comportamento dell'OMS poi secondo il nostro governo ha pienamente accettato la filosofia dell'OMS e l'ha praticata la pratica ancora adesso dopo che l'OMS ha cambiato completamente ha virato a 180 gradi dicendo no no ci siamo sbagliati test 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 fatene di più possibile noi abbiamo continuato a farne pochissime e ci viene continuamente raccontato che siamo il paese che ne fa più al mondo una bufala incredibile ripetuta periodicamente da Conte e da Arcuri se volete vedere sul sito della fondazione Hume le ragioni per cui questa è una pazzesca bufala una fake news con i fiocchi trovate tutta la documentazione io non vi voglio annoiare su questo vi posso dire solo che se la comparazione viene fatta bene la Germania ne fa due volte e mezzo quelle che facciamo noi è infatti uno dei paesi in cui il numero di morti anche se ieri si diceva che la Germania però in realtà è una forma di stabilizzazione se ho capito bene guarda Elena non è detto potrebbe anche essere secondo me che c'è davvero una ripresa in Germania però qui bisogna bisogna introdurre un altro elemento e cioè l'andamento dell'epidemia dipende fortemente dalla politica dei tamponi poi vi porterò dei dati su questo ma anche diciamo il tipo di lockdown e diciamo l'operosità di un paese allora io ritengo che se un paese tiene molto al suo pil riapre il più presto possibile ed è un paese fondamentalmente operoso operoso vuol dire con un tasso di occupazione alto semplicemente non è una valore morale diciamo un tasso di attività elevato è una cultura del lavoro piuttosto sviluppata perché in Germania è così allora quel paese è in una situazione instabile per quello io prendo con una certa serietà la risorgenza dell'epidemia in Germania perché è come se ci fossero due grandi forze che si scontrano da un lato la volontà di far ripartire l'economia dall'altra la volontà di contenere l'epidemia con i tamponi la app le mascherine tutto quello che è possibile allora queste due forze sono potenti e si bilanciano in Germania però quando prevale una delle due forze l'epidemia può ripartire ora perché io sono leggermente nervoso sulla questione dei tamponi mi sono veramente arrabbiato più di una volta è perché ho un grafico che non so se vi posso far vedere nel senso non che sia segreto ma che è tutto pasticciato è qua sì noi capiamo poco ma insomma spiegacela in parole povere ve lo spiego fa vedere una cosa che esiste una relazione matematica tra la propensione a effettuare tamponi di un paese e il numero di morti e questa è una relazione inversa cioè più elevata la propensione di un paese a fare tamponi più il numero di morti è basso questa è una curva grossomodo si chiama omografica cioè non è lineare ma è una specie di riesco a inquadrarla sì vediamo abbastanza a mano non è esattamente una curva una retta è una specie appunto di parabola equilatera o curva omografica come si dice in matematica ebbene questa curva fa vedere molto chiaramente che i paesi che hanno una propensione a fare tamponi superiore a una certa soglia tra cui rientrano l'Austria il Portogallo la Germania il Canada la Slovenia la Norvegia l'Estonia hanno avuto tutti un tasso di mortalità che è un quarto di quello dell'Italia e i paesi che hanno avuto tassi di mortalità altissimi come il Belgio la Spagna l'Italia ma anche ahimè la Francia sono tutti dal lato del facciamo pochi tamponi allora è chiaro che una correlazione non è la dimostrazione di niente non è che questa è una prova però c'è un indizio molto forte che se avessimo fatto più tamponi avremmo risparmiato un certo numero di morti io non ho ancora quantificato quanti morti ci è costata il ritardo del lockdown e quanti morti ci è costato il non fare tamponi lo farò non sarò creduto come il solito ma penso sia un dovere morale perché ci sono delle persone che sono morte ci sono persone che avrebbero potuto sopravvivere che avrebbero potuto non morire ci sono persone che sono morte in condizioni che non augurerei al mio peggiore nemico perché essere completamente abbandonati dai propri cari dalla sanità dai numeri verdi in cui non risponde un medico ma risponde un centro come si dice come si chiamano telemedicina no no peggio centro d'ascolto no come diavolo si chiama vabbè quando ti risponde un call center ah scusa ti risponde semplicemente un call center noi abbiamo avuto a un certo punto l'impressione di essercelo beccato io e Paola eravamo disperati perché abbiamo telefonato e non ci ha risposto un medico ci ha risposto un call center nel civilissimo Piemonte vi rendete conto allora io dico che per rispetto dei nostri morti il conto ai nostri politici andrà prima o poi presentato quando questo clima di assuefazione e di sottomissione non ci sarà più io spero non ti vedo più Elena ecco scusate c'è stato un lockdown forse proprio mentre parlavo male dei politici eccoci no certamente speriamo di riaverti al circolo a riprendere il filo del discorso su questa perché voglio dire in questa chiacchierata che adesso portiamo verso la conclusione con ancora diciamo un tema perché siamo già è già un bel po' che stiamo chiacchierando e che ci stiamo ascoltando con grande interesse abbiamo parlato di morti e di malati ma giustamente questo tuo richiamo al fatto che dietro questi numeri e queste parole c'è la vita ci sono le persone c'è la sofferenza che in tanti hanno attraversato la sofferenza è sempre ingiusta lo è più che mai di fronte al fatto che si poteva si poteva evitare e si poteva fare qualcosa di diverso da quello che è stato fatto allora la domanda io avevo ancora da chiederti due cose sostanzialmente portandoci verso la conclusione una è quali imprevistiche qual è la misura ancora di imprevedibilità con la quale dobbiamo confrontarci voglio dire la scienza ci dice che in questi mesi si è dovuta confrontare con un virus totalmente nuovo dai comportamenti totalmente nuovi e si è però si sono imparate tante cose e si sta lavorando molto velocemente quindi è un po' meno oscuro di quello che era all'inizio questo virus però forse ci sono ancora delle cose che dobbiamo mettere in conto cioè delle cose impreviste o perlomeno di dare una valutazione generale di quello che deve essere il nostro atteggiamento civile politico generale individuale collettivo di fronte a questa cosa cosa possiamo e dobbiamo prepararci e poi appunto come andrà non per fare di nuovo tentare di fare delle profezie ma da cosa dipenderà il nostro il decorso collettivo della malattia in Italia tu mi parlavi di percentuali molto nette tra un 5% e un 95% e dobbiamo insomma ascoltarti e ti ascoltiamo anche su questo quindi a che cosa dobbiamo essere più o meno pronti e che cosa dobbiamo aspettarci dal seguito di questa epidemia e di questa chiamiamo l'avventura ecco forse ti darò una risposta un po' stupefacente cioè questo è uno dei casi in cui in realtà possiamo prevedere abbastanza accuratamente quasi tutto nel senso che non ci sono motivi seri per pensare che questa strategia adottata in Italia possa funzionare non ci sono motivi seri per pensare che questa lenta riapertura non faccia ripartire l'epidemia quindi è tutto è tutto sostanzialmente scritto quello che non è scritto invece è l'evento positivo cioè potrebbe anche succedere che che so io che il caldo faccia in due settimane sparire il virus in Europa io lo ritengo estremamente improbabile ma diciamo secondo me la situazione è che è chiaro che le cose andranno malissimo ma ci può essere il cigno bianco cioè qualcosa che modifica radicalmente le cose il contrario dello schema di taleb del cigno nero le cose vanno benissimo ma potrebbe arrivare il cigno nero che ci guasta la festa no le cose andranno malissimo ma ci potrebbe essere il cigno bianco che cambia le carte in tavola cosa può essere il cigno bianco naturalmente può essere il fatto che il virus soffra il caldo può essere il fatto che venga scoperto un qualche tipo di cura di cui si sta parlando in questi giorni come possibile di tipo non tanto preventivo come un vaccino ma di intervento rapido se ci fosse qualcosa che si può prendere subito subito quando si si hanno i primi sintomi senza chiedere il permesso all'istituto superiore di sanità le autorità sanitarie andando in farmacia prendendosi quel kit cosa assolutamente improbabile in un paese burocratico come l'Italia però diciamo se ci fosse questo tipo di ribadisco non solo l'esistenza di una cura ma di un accesso privato non mediato dall'autorità politica e amministrativa alla cura la situazione potrebbe improvvisamente cambiare completamente perché se io so che mi posso curare il rischio mi pongo tranquillamente certo capite cioè se il rischio di morire diventa quello di una normale influenza ci si può curare tempestivamente ma allora riapriamo selvaggiamente va benissimo quindi le possibilità che io vedo sono sostanzialmente solo queste una cura o la temperatura che indebolisce il virus nel decorso invece prevedibile che le cose vadano tutte per il verso storto la percentuale di cui ti parlavo erano queste 5% e 95% in che senso il 5% dei guai può dipendere dal nostro cattivo comportamento cioè dal fatto che ci sono delle giuste regole e non tutti le rispettano due cose di cui una è improbabile l'altra meno ma comunque questo può determinare un 5% avere una forza diciamo causale del 5% il restante 95% è governativo e per governativo intendo anche le amministrazioni locali non solo il governo nazionale ma anche tutti gli apparati amministrativi della sanità la catena di trasmissione delle informazioni l'istat che fa l'indagine o non fa l'indagine la app che funziona o non funziona tutto l'apparato che dovrebbe monitorare l'epidemia e intervenire rapidamente se ci sono di nuovo i focolai garantire un numero di tamponi almeno quintiplo di quello attuale ecco questo determina il 95% dei nostri guai quindi io quello che respingo ma lo respingo da professore universitario innanzitutto è l'idea del tutto infondata dal punto di vista scientifico che la riapertura andrà bene se noi ci comporteremo bene questa è una colpevolizzazione preventiva dei cittadini assolutamente inaccettabile perché le cose andranno non malissimo se il governo si deciderà a fare il suo dovere se le regioni faranno il loro dovere se tutti coloro che gestiscono l'epidemia non saranno latitanti come sono stati fino adesso noi possiamo fare del danno ma questo danno incide io lo dico ovviamente in modo provocatorio per il 5% per poco magari incide per il 2% o per l'8% ma comunque incide poco di un altro ordine di grandezza rispetto alla saggezza dei nostri governanti bene speriamo perché insomma la situazione è complessa ci sono un sacco di fattori da da tenere presenti c'è soprattutto diciamo una serie di errori precedenti pregressi che complicano ulteriormente una situazione già complessa è vero che questa epidemia era l'insorgere di un virus come questo con queste caratteristiche insomma era difficile da prevedere ma è anche vero che ci portiamo sulle spalle i danni di alcuni errori diciamo madornali che sono stati fatti come si dice dalle nostre parti spero un bambino certamente quello che dicevi sul comportamento cioè gli italiani hanno dato prova di una grande senso di responsabilità e di 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 contezza dell'evidenza del fatto che non non stare vicini aiuta ed è stato necessario per non far circolare il virus adesso tocca appunto a delle scelte di responsabilità da parte delle istituzioni alle quali siamo affidati più che mai direi dobbiamo sperare vorrei forse aggiungere una cosa sotto forma di punto interrogativo anche come invito alla ricerca io ho degli scambi di idee con persone che seguono che seguono l'epidemia abbastanza frequenti e vi posso assicurare che c'è una cosa sulla quale noi dobbiamo arrenderci nel senso che non riusciamo a capire perché e che secondo me meriterebbe un'inchiesta giornalistica e non solo giornalistica questa cosa è perché non vogliono fare i tamponi non è chiaro ci sono varie teorie alcuni dicono che hanno paura dei tamponi perché se si facesse o si scoprirebbe che i numeri sono altri e quindi non si potrebbe riaprire altri dicono che ci vogliono tutti sottomessi in uno stato di paura questo non ci credo tanto ma ci stiamo scervellando a capire perché diavolo visto che i tamponi sono una delle chiavi della nostra salvezza c'è questa ostinazione dal centro politico notate bene anche locale io so di governatori che non li vogliono fare non vi dico poi il Piemonte che non vi sta facendo e questa cosa qui io ogni settimana mi sento con colleghi che seguono l'epidemia ma tu hai capito perché non vogliono fare i tamponi non l'abbiamo capito quindi bisogna bisogna fare manifestazioni virtuali per più tamponi per tutti ma sai c'è anche chi adesso non voglio citare nome e cognome ma c'è anche qualcuno che mi ha mi ha detto ma forse se la magistratura si svegliasse anche in questo non sarebbe male perché fanno tantissime inchieste anche in campi dove potrebbero lasciar perdere e sono spesso tardive ma qui c'è un reato potenziale di procurata epidemia che l'inazione governativa delle autorità suggerisce perché la magistratura si accanisce con le residenze e non col fatto che c'è il monopolio pubblico dei tamponi e non ce li lasciano fare perché la magistratura certo un invito alla magistratura ma comunque anche alle istituzioni quando si tira fuori la magistratura perché si è disperati naturalmente perché non dovrebbe essere la magistratura occupata ma era per dire che siamo così increduli tutti che si pensano anche cose così strane come chiedere alla magistratura di intervenire certo in una questione che dovrebbe riguardare ben altre diciamo ben altre cose bene grazie mille direi che continueremo a stalkerare sia il sito della fondazione Hume sia le tue competenze e il tuo approccio che è illuminante insomma in una situazione così difficile complessa e nebulosa e speriamo in un futuro non si sa bene quanto vicino quanto lontano di poter fare questo dibattito magari di nuovo al circolo dei lettori con la mascherina o senza mascherina ma questo è il meno un caro saluto a tutti quelli che ci hanno seguito e alla prossima occasione e alla prossima e alla prossima